Venerdì 22 dicembre, presso l'Unità Operativa di Ossetrice e Ginecologia dell'Ospedale Maggiore Rimotica, si è svolta la Cicognata 2017, un evento che ha coinvolto molti bambini nati nel 2017 e un'occasione di ritrove di festa per gli adulti e per i nuovi arrivati. Presente all'auditorium dell'ospedale per questo momento di festa, anche il Direttore Sanitario Piero Bonomo e il Direttore dell'Unità di Ossetrice e Ginecologia Giovanni Cavallo, che hanno voluto ringraziare quanti hanno colto l'invito. In particolare, il Dottore Bonomo ha voluto fortemente la realizzazione di un incontro come la Cicognata 2017, per lanciare un messaggio di positività ed evidenziare il buon andamento e gli ottimi risultati che rafforzano la fiducia delle persone sull'operato dei medici e sull'organizzazione dell'ospedale. Del resto, come sottolinea anche il Dottore Cavallo, occorre essere unite e collaborare per poter fare e dare il meglio, anche perché l'ospedale maggiore di Modica ha un bacino di utenza molto ampio, adatto a servire non solo Modica ma anche le città limitrofe, collaborare anche per garantire una maggiore e migliore assistenza a persone di nazionalità e culture diverse. Dunque, eventi come la Cicognata 2017 sono appuntamenti che ci si augura diventeranno fissi, perché ogni bambino che nasce una gioia, arrivando in un ambiente preparato per loro. Grazie a tutti.